Bentornati, dopo il video sulla sagra della primavera, cioè un pezzo che è stato veramente rivoluzionario nella storia della musica, oggi affrontiamo la dodecafonia e cercherò di spiegarvela nella maniera più semplice possibile. Ancora che io non sia un grande fan della dodecafonia, e vedremo più avanti perché non lo sono, è indubbio che sia stato un movimento che ha avuto un ruolo importantissimo e rivoluzionario per certi versi nella storia della musica, anche se abbiamo già visto diverse altre volte che in musica e in arte in generale da niente non nasce mai niente, cioè non è che un compositore si sveglia al mattino e dice oggi mi invento una cosa a cui nessun altro ha mai pensato, questo non lo fa neanche un artista in generale. Tutti gli artisti hanno un proprio vissuto, hanno un proprio background di informazioni che sono servite alla loro formazione, e dopodiché quelli con più intuito o quelli con un guizzo particolare tirano fuori un'idea particolarmente originale. Allora, la dodecafonia è stata teorizzata, lo sapete sicuramente tutti, da Arnold Schoenberg nei primi del Novecento, in realtà non solo da lui, perché anche Josef Auer aveva raggiunto praticamente le stesse conclusioni, poi però alla fin fine, nella storia e nel riconoscimento della dodecafonia, il padre viene riconosciuto quasi esclusivamente in Arnold Schoenberg. Prima di parlare della dodecafonia però, dobbiamo parlare della tonalità, perché per potervi spiegare perché e come la dodecafonia ha rinunciato alla tonalità, vi devo spiegare prima cos'è la tonalità. Quindi se sapete già di vostro cos'è la tonalità, potete saltare questa parte del video e andare al capitolo successivo, altrimenti vi suggerisco di spendere questi due o tre minuti in cui vi spiego che cos'è la tonalità. Allora, cosa vuol dire quando un pezzo, una sinfonia, una sonata è, facciamo conto, in do maggiore? Significa che il do maggiore è la tonalità di impianto nella quale il compositore ha deciso di impostare tutto questo pezzo. Quindi significa che questo pezzo utilizzerà principalmente le notte che fanno parte della scala di do maggiore. E significa anche che le note che fanno parte dell'accordo di do maggiore, do mi sol, saranno particolarmente importanti e presenti in questo pezzo. Significa anche che in genere, pur sia chiaro con mille eccezioni, il nostro brano, quando dovrà modulare in altre tonalità, modulerà in tonalità vicine a do maggiore. Allora, che cos'è una tonalità vicina? Non è come si potrebbe pensare una tonalità che fisicamente è vicina a un'altra, ad esempio do maggiore e re maggiore, che sono proprio attaccate, in realtà sono tonalità lontane. Noi parliamo di tonalità vicine quando, stante una tonalità di partenza, facciamo conto, mi bemolle maggiore che ha tre bemolli in chiave, le tonalità vicine a mi bemolle maggiore saranno quelle che hanno un bemolle in più, quindi quattro bemolli e quindi la bemolle maggiore, oppure un bemolle in meno, quindi due bemolli, quindi si bemolle maggiore. Quindi non una questione di vicinanza, tanto è vero che c'è la cosa un po' paradossale, che la tonalità più lontana da do maggiore è do diesis maggiore, anche se, come dire, fisicamente sul pianoforte o su quale strumento è praticamente attaccata. Ora, in una data tonalità alcune note hanno una funzione precisa, altre hanno una funzione obbligata, altre invece non sono previste. Normalmente, se si suona in quella tonalità, queste note, come dire, che non fanno parte dell'ambito, in questo caso del do maggiore, non verranno suonate e se dovessero venire suonate, automaticamente ci porterebbero in altra tonalità. Per cui è importante che vi sia chiaro questo concetto di funzionalità delle note, per cui all'interno di una tonalità, di una corose preferite, determinate note hanno una precisa funzione e dei precisi movimenti che possono o non possono fare. Questo specifico all'interno della musica è classica, non stiamo parlando di nessun altro genere di musica. Quindi, quando noi ascoltiamo un brano in do maggiore, appunto, sia che siamo dei musicisti, sia che non siamo dei musicisti, il do maggiore si installa nella nostra testa e, come dire, diventa il faro portante di tutto quel pezzo, o quantomeno di tutto quel movimento. E quindi, tanto è vero che noi sentiremo una sensazione, si dice, di riposo quando, dopo una serie di sviluppi che il pezzo prenderà, torneremo nella tonalità di impianto, cioè quella di do maggiore. Vi faccio un esempio. Se io suono questa semplicissima cadenza in do maggiore, ecco, avete sentito, avete proprio sentito che c'è stato un senso di arrivo, di completezza, di compiutezza e di, tra virgolette, soddisfazione quando ho dato l'ultimo accordo, perché ha seguito una serie di regole. Se io facessi questa identica cadenza, ma cambiassi l'ultimo accordo, vedreste che il risultato è completamente diverso. Ascoltiamolo. Ecco, avete sentito che il senso di riposo, di soddisfazione, di appagamento, di determinazione è completamente svanito con l'ultimo accordo, perché ci ha portato altrove. Ora, questa spero non troppo lunga premessa, mi è servita per farvi capire che la musica classica, lo ripeto con mille e mille eccezioni, per circa quattro secoli ha seguito queste regole. Dalla fine dell'Ottocento, ma soprattutto all'inizio del Novecento, i compositori hanno cominciato a sperimentare nuove strade compositive, ovviamente, anche perché è normale. Un certo tipo di musica era arrivata a un punto di perfezione insuperabile, già più di quello non si poteva dire. Detto in altri termini, che senso dovrebbe oggi scrivere una sinfonia nello stile di Haydn o di Mozart? Sì, può servire come esercizio di stile, si fa nelle classi di composizione per imparare gli stili, ma la puntista artistico non ha nessuna funzione, nessuna utilità, perché ovviamente l'hanno già fatto loro e ai massimi livelli. Per cui i compositori, a un certo punto, hanno cominciato a sentire la necessità di spingersi più in là e di non riconoscere più alle noto quella funzione che invece era loro riconosciuta nella musica tonale. Quindi sono stati tanti i compositori che, ben prima di Schoenberg, hanno cercato di superare questi limiti. E qualcuno ci è anche riuscito, pensiamo a Wagner, pensiamo a Ravel, Debussy, a certe cose di Liszt, non parliamo neanche di Stravinsky naturalmente. Quindi tutti questi compositori cosa hanno fatto, ridotto in soldoni? Hanno cercato di defunzionalizzare le note e di utilizzare, chi più chi meno, con tecniche diverse, quante più possibili dalle 12 note della scala cromatica. Cioè l'abbiamo visto altre volte, da una nota all'ottava superiore ci sono 12 note, l'abbiamo visto nel video sul temperamento. Se l'avete visto andatevelo a vedere. Quindi l'idea quindi di introdurre tutte le 12 note, indipendentemente dalla tonalità di impianto, quando c'era una tonalità di impianto, perché poi più si è andati avanti e meno si è sentita la necessità di essere legati a una specifica tonalità. Quindi l'idea di per sé, dicevo, non era nuova. Schoenberg però l'ha teorizzata e codificata, come con un metodo matematico e quindi di per sé inoppugnabile. Quindi a base della dodecafonia, quindi, che possiamo tranquillamente dire che rientra nel movimento della atonalità, ma attenzione non confondete i due, non confondete il contenitore col contenuto, quindi le note si è deciso che non avessero più una funzione tonale, quindi che non dovessero seguire e rispettare quelle regole e quelle funzioni che c'erano invece nella musica tonale, anzi non le dovevano avere. Nella dodecafonia si dice non deve esserci nessun tipo di relazione tra queste note che ci possa far pensare che siamo in una determinata tonalità. Quindi tutte le dodici note, quindi, hanno pari importanza e devono essere defunzionalizzati, quindi non essere percepite all'interno del pezzo come note con una funzione e quindi con un movimento, diciamo così, obbligato. La dodecafonia è basata fondamentalmente su una serie. Che cos'è una serie? È una sequenza di note. Ovviamente di quante note? 12, si chiama dodecafonia, quindi, come dire, struttura germinale della dodecafonia è una serie, una sequenza, di 12 note. Queste 12 note devono essere le 12 note della scala cromatica, quindi, quindi non si devono mai ripetere e nessuna nota deve essere ripetuta prima che la serie sia conclusa. Quindi se nella serie ho suonato il re bemolle, sparo, il re bemolle non dovrà più sentirsi finché la serie non è finita e non si è arrivata alla dodicesima nota. Allora, per farvi un esempio, ho scritto per voi una serie dodecafonica. Ho una, specifichiamo una cosa importante, per farlo e per essere più chiaro possibile ho dovuto prendere due scorciatoie non da poco. Innanzitutto ho considerato queste 12 note come tutte identiche come valore, cosa che non è così. Ovviamente in un pezzo del regafonico d'arte ovviamente il ritmo è, anzi, una cosa molto importante e quindi non è che tutte le note hanno esattamente la stessa durata. Ho fatto così per semplificare. L'altra cosa che ho fatto, ho cercato di stare in un range abbastanza limitato per cui, ad esempio, questo re bemolle l'ho scritto qua perché, come dire, era compreso nel range che mi ero imposto ma avrebbe potuto essere molto più acuto o molto più basso purché fosse un re bemolle. Bene, questa quindi è la nostra serie dodecafonica. Bene, e una volta che l'abbiamo composta che cosa ce ne facciamo? Come ho detto, un procedimento matematico. Ci facciamo un procedimento matematico ovvero la trattiamo e la riesponiamo seguendo alcuni principi che in realtà sono principi tutt'altro che inventati da Schoenberger sono principi che il contrapunto conosceva e praticava da tanti, tanti, tanti anni. Ecco, quindi allora quali regole applichiamo? Allora vedete che nella prima riga è stata scritta la serie di impianto quindi do, fa bemolle, mi bemolle, do bemolle ci sono tutte e dodici le note della scala cromatica per semplificare sono partito dal do, ma ovviamente si può partire da qualunque altra nota. Come vedete, questa serie finisce con fa, re, sol bemolle la bemolle nell'esposizione del pezzo quindi questa serie verrà riesposta partendo dalla fine praticamente quindi invece che partire dalla prima battuta si parte dall'ultima vedete, partendo dall'ultima abbiamo fa, re, sol bemolle, la bemolle e se guardate l'inizio della serie retrogra saranno appunto fa, re, sol bemolle, la bemolle e le altre come se fate un controllo verificheranno fino a terminare con il nostro do sull'ultima battuta che corrisponde ovviamente alla prima nota della serie quindi diciamo così, vengono invertite come a specchio poi un'altra cosa è fare la serie cosiddetta inversa cioè si utilizza lo stesso intervallo ma se è ascendente diventa discendente e viceversa se è discendente diventa ascendente ad esempio la nostra serie partiva con do, fa, bemolle che è una terza maggiore tecnicamente serve una quarta ma fidatevi di me che do, fa, bemolle suona come una terza maggiore, fidatevi è una terza maggiore ascendente perché stiamo partendo dalla nota più bassa e andiamo verso la nota più alta quindi una terza maggiore ascendente nella serie inversa che vedete qui si parte dal do e si andrà sempre una terza maggiore però discendente quindi dal do invece che salire si scende e si va alla bemolle vediamo poi qui dal fa bemolle al mi bemolle c'è una seconda minore discendente perché il fa bemolle è più alta il mi bemolle è più bassa quindi è un intervallo discendente quindi seconda, minore, discendente nella serie inversa la seconda si partirà da dove eravamo arrivati si andrà per una seconda minore la bemolle e si dopo bemolle però ascendente ancora l'esempio da battuta 3 a battuta 4 della nostra serie originale abbiamo una sesta minore ascendente quindi dovremmo avere una sesta minore discendente andiamo a controllare si do più bemolle e re bemolle è una sesta minore discendente e così via per tutto il resto della serie ultima possibilità che abbiamo è la serie retrograda inversa retrograda non vuol dire che non è al passo con i tempi per cui come vedete partendo dalla serie inversa le ultime notte della serie inversa sono sol si bemolle sol bemolle fa bemolle che sono le stesse in cui comincia la retrograda inversa sol si bemolle sol bemolle fa bemolle questa come dire è la struttura il il nervo la spina dorsale di una composizione dodecafonica alla quale ovviamente si applicano una quantità di trattamenti di sviluppi di variazioni insomma e di mille altri procedimenti compositivi che poi fanno che poi trasformano qualcosa di così matematico come avete visto perché poi alla fine è un procedimento matematico quello che abbiamo utilizzato lo trasformano in qualcosa d'arte come vi ho detto all'inizio io non impazzisco per la dodecafonia non ci impazzisco perché secondo me essere come dire bloccati da una serie di regole così ferre matematiche ma secondo me limita molto la creatività però io ovviamente l'ho studiato ai tempi del consideratorio però nella mia musica non ho mai non ho mai composto in maniera in maniera dodecafonica poi non mi scuso che magari domani potrei potrei farlo bene spero di avervi spiegato in maniera più chiara possibile la struttura appunto come ho detto la spina dorsale di un pezzo dodecafonico scrivetemi nei commenti se c'è qualche passaggio e temo che ci sarà in cui non sono stato sufficientemente chiaro e se riuscirò vi risponderò ricordatevi che siete tanti e faccio il possibile per rispondere a tutti ma non sempre ci riesco nel frattempo io ringrazio Massimiliano per la realizzazione di questo video mi invito se non lo avete ancora fatto a iscrivervi al canale cliccando qua sopra e se volete da qualche tempo c'è anche la possibilità di abbonarvi per avere dei contenuti extra e particolarmente specifici fatti apposta per gli abbonati ci vediamo al prossimo video non mancate ok ok